Dimmi figliola, confessa i tuoi peccati. Padre, io sono qua perché ho bisogno d'aiuto. Figliola, io sono qui per aiutarti, parla. Padre, io desidero tanto un figlio. Figliola, solo in questo non posso aiutarti, desideri un figlio e viena a domenica. Ma come? Io so che qua, in questa parrocchia, con un Ave Maria, io posso avere un figlio. Oh figliola, non era un Ave Maria, era un padre nostro, era padre Peppino, ma poi non mi ha cacciato.